Trattamento regale su rotaia, è chiamato il treno del Marajá e assicura ai suoi ospiti un'accoglienza di altissimo livello. Un modo certamente esclusivo per visitare l'India con un pizzico di nostalgia per la grandezza passata. I suoi interni si ispirano infatti alle sale dei palazzi dei Marajá indiani, due ristoranti, spa, vagone fitness e suite rifinite con materiali pregiati. Costi non alla portata di tutti, si arriva fino a 47 mila dollari per il tour di sette giorni. Grazie a tutti.